Dal 22 dicembre scorso, con le dimissioni dell'assessore Piero Mangano, i componenti dell'aggiunta d'Anna sono rimasti in tre. Per lo statuto comunale manca quindi il quorum strutturale affinché l'organo esecutivo possa deliberare, creando di fatto una situazione di paralisi perché qualsiasi delibera venisse mai adottata risulterebbe infatti illegittima. A rilevarlo è il consigliere di opposizione Leopatanè che questa mattina ha protocollato un'interrogazione e segnalazione. Rivolta al sindaco e al segretario generale, dove faccio notare che in questo stato con una sorta di quorum deficitario dell'aggiunta non è possibile validamente e legittimamente deliberare. Ho citato alcune norme statutarie perché di fatto il sindaco può nominare un assessore ma deve nominarlo contemporaneamente nel momento in cui l'assessore si è dimesso oppure gli ha revocato l'incarico. Sottolineo la parola contemporaneamente contenuta nell'articolo 36 dello statuto. E di recente vi è stato anche un parere espresso dall'assessorato regionale alle autonomie locali a seguito di una segnalazione fatta da un consigliere comunale del comune di Bronte proprio per una situazione analoga in cui anche lì erano tre assessori e non quattro. E l'assessorato agli enti locali ha ribadito il principio del CGA e quindi bisogna necessariamente per poter validamente deliberare che l'aggiunta sia ricomposta nella sua ricostituzione originale di quattro assessori. Questo cosa può comportare? Può comportare che qualora qualcuno presentasse un ricorso al TAR contro delle delibere di giunta potrebbe il TAR dichiarare l'illegittimità di queste delibere con delle refluenze sugli atti amministrativi a cascata su altri atti con delle conseguenze negative anche sulle casse comunali già deficitari. Il consigliere Patanè chiede quindi una risposta urgente da parte del primo cittadino riservandosi di sottoporre alla vicenda gli organi sovracomunali competenti al controllo degli atti amministrativi e sottolinea come l'ennesima paralisi amministrativa abbia gravi ricadute su tanti settori, a partire da quello economico-finanziario con un bilancio consuntivo la cui approvazione in giunta, già notevolmente in ritardo rispetto al 17 dicembre scorso, termine ultimo indicato dal commissario ad acta, è rimasta in sospeso. Tutto questo si inquadra in un'inerzia totale dell'amministrazione che è evidente perché ad esempio il conto consuntivo di fatto che doveva arrivare non è ancora arrivato, l'assessore in consiglio all'ultima mia interrogazione ha risposto che il conto consuntivo sarebbe arrivato entro la scorsa settimana e non si hanno ancora notizie, ma il conto consuntivo non possono di fatto adottarlo con questa giunta monca, serve prima di tutto nominare il nuovo assessore. Secondo lei perché il sindaco sta prendendo tempo, non sta nominando un nuovo assessore o eventualmente ricuce quello strappo con Piero Mangano? Si parlava di una verifica politica, c'è appunto questa possibilità che venga fatta prima o poi? Questo è il problema, questo dovremmo chiederlo al sindaco perché è da ormai 15 giorni che si aspetta questa verifica politica ma che io sappia ancora non ha fatto alcuna verifica politica. A questo punto ritengo che l'assessore Mangano abbia fatto bene a dimettersi dichiarando che non vuole partecipare ai funerali di questa città perché è evidente che stiamo assistendo a un vero e proprio funerale di questa città con un'inerzia totale da parte dell'amministrazione che sottovaluta tutti i problemi.